Come si collega il Kikak? Installare il Kikak con il raccordo in alto vicino all'impianto di spillatura. La procedura per il collegamento del Kikak è riportata anche sulla confezione e sulla scheda di istruzioni. Smontare il rubinetto di spillatura esistente svitando il tubo della CO2 e il tubo della birra. Collegare al rubinetto di spillatura del Kikak il tubo della CO2 e il tubo della birra. Sollevare la leva del rubinetto di spillatura. Installare il rubinetto di spillatura sul raccordo e ruotarlo in senso orario. Abbassare quindi la leva. Mettere il Kikak in frigorifero o sotto il bar. Si otterrà così una birra perfettamente spillata. Alla salute! Kikak. La spillatura del futuro.